Io penso che troppi decenni sono passati nel prendere per buono, che è l'unico modo per affrontare il tema dell'uso delle droghe, sia quello del proibizionismo. Sono convinto che sia arrivato il tempo e sia maturo i tempi per affrontare questo tema in modo completamente diverso, per due motivazioni. La prima è legata al fatto che noi ci troviamo di fronte a un'inefficacia delle politiche di controllo delle droghe, che hanno prodotto, secondo punto non indifferente, dei mercati illegali su cui poi hanno lucrato tantissimo le organizzazioni criminali, anzi hanno sviluppato il loro potere e il loro controllo anche sul territorio. Questo fatto ha indebolito notevolmente il sistema, l'apparato della giustizia, ma anche gli apparati di polizia che hanno concentrato buona parte del loro tempo lavoro nel contrastare un fenomeno che nei fatti ha riguardato molte persone, ma che non è riuscito a raggiungere l'obiettivo di ridurre la quantità, l'offerta, se potremmo dire così, l'offerta di droga a livello internazionale. Allora penso che la questione della distinzione tra uso terapeutico e uso ricreativo della cannabis oggi abbia una valenza semplicemente come step di una politica di antiproibizionista che deve guardare nel complesso a due questioni fondamentali. Quello dell'efficacia in relazione alla tutela della salute pubblica e individuale di chi fa uso di sostanze stupefacenti, togliendo anche un po' di alone di trasgressività che è connesso a questo tipo di comportamenti. Il secondo è la questione della lotta alla criminalità organizzata che oggi deve passare attraverso anche nuove forme di contrasto allo strapotere economico che queste organizzazioni criminali possono mettere in campo, soprattutto grazie alla gestione di mercati illegali. Chiunque conosca un po' le organizzazioni criminali, perché le ha studiate, perché cerca di tracciarne anche un po' il potere di controllo territoriale, sa che la gestione dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti è centrale, non solo in termini di fatturato, ma in termini anche di controllo del territorio e di reclutamento delle persone, soprattutto molto giovani, che attraverso il piccolo spaccio entrano nelle forme organizzative più grandi e diciamo così costituisce il primo passo verso l'organizzazione criminale. Quindi noi dobbiamo pensare a questo tema non in termini ideologici, non solo sulla base di dati che possono essere più o meno stime reali di quello che accade, ma in relazione a quello che davvero capita nei territori e come poter contrastare questo fenomeno. Ripeto però che non è l'unico tema, c'è anche il tema della salute pubblica e individuale che va tutelata in termini più effettivi. Io sono convinto che anche nella magistratura, come nella società italiana, ci siano diverse visioni che sono collegate proprio a un radicamento e cristallizzazione di posizioni ideologiche che da decenni sono in campo su questo tema. Sono convinto, d'altra parte, che la magistratura abbia un ruolo delicato, non possa prendere proprio posizione sempre su qualsiasi questione, deve applicare le leggi e quindi attenderà che ci siano delle determinazioni del Parlamento in merito.